Ad Agropoli nel suggestivo scenario dell'Ido Atlantide sul lungomare San Marco, dopo circa 40 anni è andata in scena la prima riunione di Pugilato, città di Agropoli. 11 incontri nelle diverse categorie hanno visto sfidarsi i pugili da tutta la campagna. La manifestazione è stata organizzata dalla SD Box Agropoli e da Angelo Scaffeo, ex boxer professionista, attualmente tecnico federale, e di un gruppo di ragazzi che seguono la sua stessa passione, con la voglia di ricreare nella cittadina agropolese gli alburi di un tempo.